Una realtà fin troppo conosciuta negli ultimi anni. Stiamo parlando di maltrattamenti, di violenze sulle donne, protagonisti a volte di storie raccapriccianti, fatte di angherie, violenze non solo fisiche, ma anche psicologiche che magari si ripercuotono su figli, minori, parenti, vicini. È partito da qui il convegno voluto da Vega, veronesi giuriste associate, in occasione di un giorno speciale, il 25 novembre, la giornata mondiale contro la violenza alle donne. Noi facciamo ogni anno un convegno il 25 novembre perché è fondamentale mantenere l'attenzione su questo tema e pensare che è nella cultura che deve cambiare qualcosa, fondamentalmente. Molte di noi, avvocate, anche i giudici, psicologi, assistenti sociali, hanno sollevato il fatto che non ci sia una rete all'interno di queste professioni che permetta di avere un protocollo comune che consenta di sentire quali sono le esigenze del minore, per quanto sappiamo che partiamo da una situazione già disperata, però di fare il meglio affinché questo bambino, ragazzo, mantenga una figura materna e paterna degne di stima, per quanto sia possibile. Perché, secondo lei, in questo periodo c'è un aumento così esagerato di casi come questi? Ma credo che si tratti molto di solitudine, lo dicono in molti, di famiglie molto chiuse in cui né l'uomo né la donna si confrontano e quindi questa incapacità probabilmente di comunicare non trova altra via che la violenza. Noi come operatori cerchiamo di fare il possibile per divulgare anche nel nostro piccolo, nel nostro contesto, questa cultura, anche se noi ci troviamo a valle del problema, cioè quando la violenza è già stata perpetrata, i bambini hanno già sofferto e è già un intervento di secondo livello.